Nostra Signora del Rosario è stata festeggiata ieri nella sua città natale. Una piccola ma devota assemblea, quella che si è riunita nella cappella delle Suore del Rosario a Nazareth, intorno al vicario patriarcale latino per Israele, Monsignor Marcuzzo. La messa, durante la quale queste religiose, consacrate proprio la corona mariana, hanno rinnovato i loro voti, ha anticipato nel cuore dei fedeli la gioia per la prossima beatificazione, la prima che si svolgerà in questa terra. La cofondatrice delle Suore Domenicane del Santissimo Rosario, Madre Maria Alfonsin Gattas, sarà infatti beatificata il prossimo 22 novembre, proprio a Nazareth, nella Basilica dell'Annunciazione. Io sono contenta che questo fatto sia in Nazareth per accendere il fuoco di fede nella gente e per anche rinnovare la loro vita, sapere cosa vuol dire santo, cosa vuol dire beato, cosa vuol dire sora, tutto. E allora io anche prego la Madre Alfonsina di mettere nel cuore delle ragazze l'amore per la vocazione. Per noi questa gioia è ancora più grande e più sentita perché viene in momenti particolari, in momenti difficili, in momenti di divisione, in momenti dove siamo veramente minacciati da quella che possiamo chiamare la disperazione, perché siamo incapaci di trovare la strada delle soluzioni della giustizia e della pace. Ed ecco che il Signore ci manda questa grazia di questa donna, di questa suora di Gerusalemme, nata a Gerusalemme, che ha lavorato un po' in diverse parrocchie del patriarcato latino di Gerusalemme, sia qui come in Palestina, come in Giordania, ed è morta a Incarem, la città della visitazione, ed è per noi dunque motivo di rinnovata speranza, di rinnovato coraggio, che possiamo sempre, prima di tutto, santificarci e che abbiamo sempre una bella e grande missione da svolgere nella Chiesa e nella società. Con i loro 43 istituti e scuole in Israele, territori palestinesi, Libano, Giordania ed Egitto, le Suore del Rosario sono la congregazione araba più diffusa, con un totale di 164 religiose arabe, ma soprattutto l'unica originaria di Terra Santa. Non si sapeva che Maria Alfonsin era la fondatrice, fino a dopo la sua morte, quando furono aperte le sue lettere, e si scoprì che la Vergine Maria le chiese di fondare una congregazione araba, locale, per insegnare nei villaggi ai poveri e ai bambini cristiani. Nate nel 1880, con il carisma della preghiera del rosario, dell'educazione e dell'assistenza ai poveri, queste suore sono poi la presenza religiosa femminile più antica nel paese, dopo la congregazione delle suore di San Giuseppe dell'Apparizione, giunta in Terra Santa nel 1848, proprio quella di cui faceva parte, originariamente la loro fondatrice, la palestinese Suor Maria Alfonsin. La nostra congregazione è veramente fondata dalla Madonna, perché è apparsa a Maria Alfonsina quando era suora del San Giuseppe, le ha detto, io voglio che tu fai una congregazione di ragazze arabi, servono tutti i villaggi arabi e allora dice, ma mamma mia, ma perché hai scelto noi? Va in Europa, all'isola Madonna, dice, io sono stata qui nata, le mie gioie, i miei dolori e le mie glorificazioni sono in questa terra, perciò io voglio che tu fai in questa terra.